Martedì 20 dicembre, buon pomeriggio da Guido Casavola e Luigi Rossiello. Apriamo con una notizia appena abbattuta dalle agenzie. Nuova richiesta d'arresto per il senatore Alberto Tedesco nell'inchiesta sulla presunta Cricca. L'accusa è di associazione a delinquere. In Manetti il fratello dell'ex assessore regionale alla sanità e altre due persone. Il gruppo avrebbe controllato per anni le nomine dei dirigenti della ASL, pilottando concorsi e appalti. Avrebbero rifornito di droga persino avvocati di Bari e Pro... Martedì 20 dicembre, buon pomeriggio da Valentina Nino e Federico Greco. Ancora scontri in Egitto. Nel quinto giorno consecutivo di protesta in piazza Tahrir, quattro persone sono rimaste uccise. 57 sarebbero invece i feriti. Denuncerò alla magistratura chi mi accusa di essere dietro gli scontri. Si stanno vendicando, ha detto il leader liberale egiziano, Ayman Al-Nur. Proseguono gli scontri anche in Siria. Almeno tre civili sono stati uccisi nelle ultime ore da parte delle forze di sicurezza fedeli al presidente Bashar al-Assad. Intanto, prima apertura del regime di Damasco. Giovedì arriverà la prima squadra di osservatori della Lega Araba. Saranno 12 persone tra esperti legali, amministrativi, finanziari e di diritti umani. Resta teso il confronto tra il governo e i sindacati sulla manovra e sulle riforme del lavoro. Dopo le polemiche di ieri, il segretario della CISL, Raffaele Bonanni, chiede di alzare il salario ai lavoratori flessibili. Pronta la replica del ministro Elsa Fornero. Conosciamo questo divario nella distribuzione dei redditi che si è creato negli ultimi 15-20 anni. Sono iniziati da pochi minuti gli interrogatori dei giocatori finiti ieri in manette nell'ambito dell'operazione Last Bet. Le indagini hanno messo in luce un sistema per truccare le partite, anche del nostro campionato, con sede a Singapore e ramificazioni in tutto l'est Europa. Il primo a essere convocato dagli inquirenti è stato Alessandro Zamperini. Protesima amare killer in Francia. L'autorità sanitaria francese ha deciso di richiamare 30.000 donne per farsi rimuovere le protesi di silicone considerate cancerogene. Analoga iniziativa era stata adottata tempo fa anche in Italia. Rubi Rubacuori è diventata mamma. La ragazza al centro dello scandalo dei festini a sfondo sessuale nelle viglie dell'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha dato la luce a Sofia Aida Risso. Pesa 3,5 kg e le sue condizioni sono ottime. La nascita è di ieri mattina, ma la notizia è trapelata soltanto oggi. E con l'arrivo del Natale è tempo di cine panettoni. Molto bassi ha oggi gli incassi del film Vacanze di Natale a Cortine. Si paga lo scotto di un trailer fatto male che comunica al pubblico un messaggio sbagliato. Queste le parole dell'attore Dario Bandiera, uno dei protagonisti. Mi dispiace solo che avevamo un bel quadro frizzante e ci hanno messo una cornice orribile. Calcio. Turno infrasettimanale per la Serie A. Si recupera oggi la prima partita di campionato non giocata per lo sciopero dei calciatori. Oggi in campo alle 18 Fiorentina Siena e alle 20.45 Cagliari Milan. Per i rossoneri Pato parte dalla panchina. Ad affiancare Ibraimovic in attacco ci sarà Robigno. Domani il resto delle partite. Meteo. Correnti gelide proveniente dall'Artico hanno ormai raggiunto anche il sud Italia. Quella di oggi sarà la giornata più fredda della settimana, con forti gelate e mattutine. Tempo ancora instabile all'estremo sud, con neve anche in Sicilia. Via Abilità. Traffico intenso sulla A4 all'altezza di Cormano. A Roma, traffico chiuso fino alle 6 di domani mattina sulla tangenziale est, tra via Fiorentini e via Togliatti. Per il momento è tutto. L'informazione tra meno di un'ora. Martedì 20 dicembre. Buon pomeriggio da Gianni Console e Aurora Sant'Angelo. Calcio scommesse. Al via oggi gli interrogatori per i 17 coinvolti nel calcio scommesse. Nel mirino alcune partite del Bari, che l'anno scorso lottava per la salvezza in Serie A. Ma mentre i tifosi speravano, il giro di scommesse partiva da Singapore. E il Bari era considerato dagli scommettitori una squadra abbordabile. Le indagini portano a pensare a un coinvolgimento del clan Parisi. La crisi finanziaria preoccupa le famiglie pugliesi. Le associazioni familiari di Puglia hanno mandato una lettera aperta all'Aggiunta regionale. La situazione economica è sempre più difficile. Le famiglie chiedono equità. I temi principali affrontati nella lettera sono la tassa sulla prima casa, le tariffe sui servizi, l'addizionale IRPEF e le modifiche dei modelli per misurare il reddito familiare. Intanto la crisi non lascia respirare gli esercizi neppure a Natale. La gente spende meno rispetto agli anni scorsi. I negozi sono vuoti. Resistono soltanto quelli di nicchia, che hanno una clientela medio alta. Tutti gli altri aspetteranno i saldi invernali, che in Puglia partiranno il 5 gennaio. Ci trasferiamo a Taranto. Ancora nessuna traccia dei rapinatori che ieri, tentando un colpo in banca, hanno ucciso la guardia giurata Francesco Malcore. Arrivato con un collega davanti alla banca per prelevare e trasportare il denaro, all'uscita Malcore è stato bloccato da due rapinatori. L'uomo avrebbe tentato una reazione, bloccata subito da un colpo di pistola in fronte. I rapinatori sono fuggiti portando con sé il sacco contenente circa 30.000 euro. Dal Tribunale di Bari, no all'archiviazione sulla fuga di notizie per i cocaparti e le escort. Così decide il giudice per le indagini preliminari Giovanni Abbattista. Le indagini sarebbero incomplete per il magistrato di Bari, che ha disposto nuovi accertamenti sull'inchiesta dell'allora pubblico ministero Scelsi, che aveva ipotizzato il reato di diffamazione. E per un po' di cultura, a Natale lo spettacolo vale. E di sicuro vale lo spettacolo che l'attore e comico pugliese Gianni Ciardo offrirà al pubblico del Teatro Forma questa sera alle 20. L'evento, organizzato dai giovani imprenditori di Confindustria, servirà per raccogliere fondi per acquistare mezzi del 118. Ed ora lo sport. Anche un terrone può andare forte al MotoGP. Così Michele Pirro, pilota di San Giovanni Rotondo, ricorda le sue origini durante la premiazione a Bari con una targa. In vista della partecipazione il prossimo anno al Moto Mondiale, Michele ha dichiarato, un giorno, ha detto il pilota pugliese, vorrei che del mio paese ci si ricordi non solo per Padre Pio, ma anche per Padre Pirro. Oggi ci occupiamo prima di viabilità perché ci sono buone notizie per chi viaggia tra la Puglia e la Basilicata. La Regione Lucana ha messo a disposizione i contributi per garantire il transito sulla strada che collega la Basentana e l'ex statale Appia. La sistemazione del tratto all'altezza di Pazzano agevolerà i collegamenti tra Bari e Potenza. E infine il meteo. Per questa sera non si annunciano cali di temperatura sulla Puglia che resteranno tra i 4 gradi di minima e 9 di massima. Pioggia a tratti su Barletta, Brindisi e Foggia, poco nuvolosa sul resto del territorio. Per il momento è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Che so che stai ridendo già. Giovedì 20 dicembre, buon pomeriggio da Nico Marinelli. Noi la crisi non la paghiamo e questo è il grido d'allarme lanciato dal forum delle associazioni familiari di Puglia, con una lettera aperta indirizzata alla Regione e ai comuni pugliesi. Le famiglie fanno proposte concrete. Vogliamo che nella nuova imposta municipale unica ci siano più detrazioni per i figli disoccupati e le insegne a carico che nel calcolo dell'IRPEF, la Regione e il profondo delle famiglie numerose e poi che le tariffe per i servizi siano più eque. Noi la crisi non la paghiamo e questo è il grido d'allarme lanciato dal forum delle associazioni familiari di Puglia, con una lettera aperta indirizzata alla Regione e ai comuni pugliesi. Le famiglie fanno proposte concrete. Vogliono che nella nuova imposta municipale unica ci siano più detrazioni per i figli disoccupati e gli insegne a carico che nel calcolo dell'IRPEF la Regione tenga conto delle famiglie numerose e poi che le tariffe per i servizi siano più eque. Buone notizie per i disoccupati pugliesi. La Regione ha infatti approvato un progetto per l'inclusione lavorativa e sociale Alla provincia di Bari andranno circa 3 milioni di euro che verranno utilizzati da associazioni di comuni e singole amministrazioni per promuovere con aziende ed enti interventi destinati alle fasce deboli. Politica e appalti. Sono stati rinviati a giudizio gli imprenditori Gian Paolo Tarantini e Claudio Tarantini, l'ex vicepresidente della Giunta regionale pugliese Sandro Frisullo e l'ex direttore amministrativo dell'Asda di Lecce Vincenzo Valente. Avrebbero pilotato gare d'appalto e trattative per l'acquisto di attrezzature dell'Asda di Lecce. Ora sarà il giudice per le indagini preliminari a dare il via libera all'inizio del processo. Passiamo alla cronaca. È stato arrestato il giovane che ieri aveva aggredito un anziano a Carbonara rubando di 2.000 euro. Si chiama Domenico Navarra. L'uomo aveva atteso la vittima nell'androne di casa per poi aggredirlo con l'aiuto di un complice che non è stato ancora identificato dagli inquirenti. Calcio. Si allarga lo scandalo calcio scommesso e colpisce in pieno il Bari. Brescia-Bari del 6 febbraio 2011 finita 2 a 0 per il Brescia sarebbe stata manipolata dalle organizzazioni criminali. Un pentito esponente del gruppo di scommettitori di Singapore giudicato attendibile dall'investigatore e ha rivelato che il capo degli asiatici Heng era arrabbiato perché i calciatori del Bari avevano accettato di perdere solo con due gol di scarto e gli introiti delle scommesse su quel match si erano ridotti. Sport. Mentre procedono gli interrogatori per l'inchiesta calcio scommesse per le partite Brescia-Bari eccetera questo è sbagliato manca il secondo foglio. Vabbè. Viabilità. Traffico regolare. Fermate dai. Manca il secondo foglio. Aspetta fai pausa e aggiungiamo il secondo. E ora parliamo di saldi. La crisi prosciuga le tasche dei consumatori e calano i consumi. Lo sanno bene i commercianti che vedono i loro negozi vuoti anche a Natale. Per questo quest'anno i saldi invernali inizieranno con 24 ore di anticipo rispetto all'anno scorso. Si parte dal 5 gennaio. Di che cosa? Vabbè va. Facciamo. E ora parliamo di saldi. La crisi prosciuga. Va bene dai. E ora parliamo di saldi. La crisi prosciuga. Vedo Cassano mi fa ridere. E ora parliamo di saldi. La crisi prosciuga le tasche dei consumatori e calano i consumi. Lo sanno bene i commercianti che vedono i loro negozi vuoti anche a Natale. Perciò quest'anno i saldi invernali inizieranno con 24 ore di anticipo rispetto all'anno scorso. Si parte il 5 gennaio. Critico il Codacon secondo cui l'anticipo provocherà un enorme danno ai negozianti e ai consumatori. Cultura. Il centro storico di Bari diventa laboratorio per piccoli archeologi. Dal 27 al 30 dicembre i bambini e i ragazzi da 6 ai 12 anni potranno sperimentare i sentieri dell'arte dando vita a piccole sculture, vasi in argile e dipinti che richiamano le pitture rupestre. Il progetto è organizzato dall'Associazione Culturale Pugliarte con il patrocino del Comune di Bari e dell'assessorato alle politiche educative della Puglia. Spettacoli. Continua la stagione del Teatro Barium che propone per le feste natalizie un nuovo spettacolo di Gian Nicola Iemma un avvocato in famiglia ciò la laurea. Questo è il titolo dello spettacolo. Inisce nel 25 e 26 dicembre. Sul palco Giovanni Nicola Iemma, Lucia Coppola, Gemma Magista, Antonella Radici, Sara Ragone e Filippo Don Vito. Meteo. Pioggia e schiarite attendono i baresi nei prossimi giorni. Contemporali consistenti previsti per la giornata di domenica. Temperature minime, massime in calo, mari poco mossi, viabilità, traffico regolare in tangenziale sulle strade extraurbane, maggiori code in città a causa dello shopping natalizio. Prossima edizione tra meno di un'ora. Arrivederci. Non stoppare, facciamo solo l'attacco. Martedì 20 dicembre, buon pomeriggio da Alessandra Montemurro e Luigi Rossiello. Sono ancora in corso gli interrogatori dei calciatori Carobbio e Zamperini, arrestati ieri nella nuova ondata dello scandalo calcio scommesse. Gli investigatori nel frattempo hanno rinvenuto nella cassaforte dell'abitazione di Cristiano Doni un computer portatile che il calciatore aveva negato di avere. Gli inquirenti sperano di trovare nel PC dell'ex capitano dell'Atalanta altri elementi che possano confermare le tesi accusatorie. Arrestato dalla Guardia di Finanza di Belluno il primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Pieve di Cadore. Il medico chiedeva tangenti fino a 2.500 euro per ogni tentativo di concepimento assistito. In più riduceva a pochi mesi l'attesa per le cure, generalmente lunga due anni. Lo specialista è accusato di concussione aggravata e continuata, oltre interruzione di pubblico servizio. Serie di incidenti nelle marche, pioggia, ghiaccio e neve hanno reso le strade impraticabili. Sono otto i feriti nell'incidente sulla Pesaro Urbino. Un autocarro carico di auto ha bloccato trasversalmente la strada. Due furgoni hanno trovato l'impatto e l'occupante del tir è caduto giù dal viadotto mentre cercava di segnalare l'incidente. Tamponamenti a catena anche sull'Ancona Roma, all'altezza di Castelfidardo. Ancora scontri in Egitto tra manifestanti e forze di polizia. Piazza Tarire è tornata ad essere il campo di battaglia. Il bilancio degli scontri di ieri è di due morti. Uno studente e un ragazzino di 12 anni uccisi a colpi di arma da fuoco. La loro richiesta per la giunta militare è di consegnare il potere nelle mani di un'autorità civile. Intanto i morti salgono a 14, mentre i feriti sono oltre 500. I comuni del Lazio e dell'Emilia Romagna hanno registrato in Italia il più alto numero di minori presi in carico. È quanto emerge dal rapporto 2011 di Ancic Italia. Flavio Zanonato, delegato ANCI per l'immigrazione, ha poi spiegato che si sono gettate le basi per assicurare la migliore accoglienza e protezione ad ogni minore che si trovi solo nel nostro paese, da qualunque parte del mondo provenga. Martedì 20 dicembre, buon pomeriggio da Annalisa La Selva. Sono più di 100, secondo l'Osservatorio per i diritti umani, gli attivisti morte negli ultimi 24 ore in Siria durante le violenze e le repressioni in diverse località del paese. Tra questi circa 70 disertori che, tentando di fuggire dalle caserme, sono stati falciati dalle mitragliatrici. Il presidente Assad intanto ha stabilito per legge la pena di morte per chi commette atti terroristici. E invece di 3 morti e 57 feriti, il bilancio degli scontri scoppiati all'alba in piazza Tahrir, al Cairo, tra i manifestanti e i militari che, secondo alcuni testimoni, hanno aperto il fuoco contro la folla enerme. Tra le vittime, salite a 14 nel quinto giorno della protesta, anche un dodicenne e uno studente di 20 anni. Scandalo calcio scommesse. Sono iniziate alle 3 di questo pomeriggio, davanti al giudice per le indagini preliminari Guido Salvini, gli interrogatori di Alessandro Zamperini e Filippo Carobbio, due dei 17 arrestati nell'inchiesta della Procura di Verona sulle partite truccate. I due ex giocatori sarebbero i referenti italiani di un'organizzazione criminale con sede a Singapore. Avrebbe chiesto fino a 2.500 euro per ridurre a pochi mesi le liste d'attesa della procreazione assistita, lunghe in media più di due anni. Così, con l'accusa di concussione aggravata e continuata, è finito in manette questa mattina il primario di ginecologia dell'ospedale di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno. Politica. Bisognerebbe aumentare i salari perché sono bassi, lo ha detto il ministro del welfare Elsa Fornero, ribadendo la disponibilità al dialogo. Ma sul mercato del lavoro, ha sorregnato il ministro, non ci possono essere terreni inesplorati. Pronta la replica del segretario della CIS Bonanni. Toccando l'articolo 18, ha dichiarato, si mette a rischio la coesione sociale. Se questa manovra l'avessi fatta io, mi avrebbero linciato. Così Silvio Berlusconi ha commentato la legge di bilancio del governo Monti, ora all'esame in commissione al Senato. L'ex premier, che si è detto dispiaciuto per l'aumento spropositato delle tasse, ha ribadito comunque la lealtà al nuovo esecutivo. Rubi Rubacuori è diventata mamma. Alle 7 di questa mattina, all'ospedale Villa Scassi di Genova, la marocchina, al centro delle inchieste sui presunti festini nella villa dell'ex premier Silvio Berlusconi, ha partorito Sofia e Ida Risso. La piccola pesa 3 kg e 500 grammi e fa sapere il compagno genovese della giovane, sta bene come la mamma. Sembra tramontata l'era del cinepanettone. Nel primo weekend di programmazione, infatti, vacanza di Natalia Cortina, ultima fatica di neri parenti prodotta da Aurelio De Laurentiis, e solo al quarto posto al box office. Primo in classifica, Sherlock Holmes gioco di ombre, il blockbuster di Guy Ricci con Jude Law e Robert Downey Jr. Il meteo, al nord sereno e poco nuvoloso, con locali addensamenti sui rilevi alpini associati a locali nevicate. Al centro è Sardegna, locali precipitazioni, anche nevose, fino ai 300-400 metri su Abruzzo e Marche, in attunazione in serata. Sereno altrove. Al sud diffusa instabilità, con probabilità di rovesci sul settore tirrenico. miglioramento durante la seconda parte della giornata. Temperature in diminuzione al centro-sud, senza variazione di rilievo al nord. Viabilità. Ancora chiusa il traffico, la superstrada 3 trappesa l'Urbino, a causa degli incidenti a catena provocati questa mattina da neve e ghiaccio. Deviazione obbligatoria verso Urbino per i veicoli diretti a Roma. Tutti transitabili, invece, i valichi dell'Appennino, ma solo con pneumatici da neve o catene al seguito. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora. Martedì 20 dicembre, buon pomeriggio da Chiara Curci. In apertura ci occupiamo di lavoro. Il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, ha presentato oggi a Bari il bando del piano di lavoro finalizzato all'inclusione sociale, con gli assessori regionali al welfare e alla formazione. Il bando mette a disposizione 10 milioni di euro e si rivolge a 2.000 potenziali destinatari. I fondi provengono dal Fondo Sociale Europeo, da quello di rotazione e dal bilancio regionale. Ancora politica. Se noi capovolgiamo la logica e la nostra cultura democratica e stabiliamo che il diritto vero è quello dell'impresa licenziare, scivoliamo in un'altra storia, che io rifiuto culturalmente. Il governatore della Puglia, Nichi Vendola, ha commentato così le modifiche che la manovra potrebbe attuare all'articolo 18. Su questo piano non si gioca e non si scherza, ha continuato Vendola. L'Italia si aspetta passi in avanti. Le famiglie pugliesi presentano contro il governo Monti con una lettera aperta all'aggiunta ai consiglieri regionali e ai sindaci. Il Forum delle Associazioni Familiari di Puglia ha proposto all'aggiunta quattro punti su cui agire. Le famiglie chiedono l'applicazione di criteri più equi che considerano i carichi familiari insieme al reddito disponibile. La Puglia è in difficoltà, manca una politica familiare organica e strutturale. Ci spostiamo a Taranto. Continua la caccia all'uomo da parte dei carabinieri e poliziotti per l'omicidio della guardia giurata Francesco Malcore, di 35 anni. L'autopsia si terrà domani pomeriggio. L'uomo è stato ucciso ieri durante una rapina a un furgone portavalori davanti alla filiale Unicredit nel quartiere Tamburi di Taranto. Gli investigatori sospettano che i banditi, fungiti con 30.000 euro, siano esponenti della malavita locale. Crisi. La gente guarda le vetrine ma non compra, dichiarano i commercianti alla confe sercenti. La crisi continua a farsi sentire. Alle porte della vigilia di Natale i negozi continuano a essere vuoti. Sembra essere scomparto il traffico tipico delle compere per le vie più importanti, con pochi acquirenti nei negozi del centro. Le navette risultano semivuote. A non risentire della crisi sono invece i negozi di nicchia sempre più affollati. Appuntamenti. In soli tre mesi hanno già ricevuto quattro riconoscimenti in giro per la Puglia. Aproderanno quindi anche a Lecce facendo vivere momenti magici per un concerto davvero coinvolgente. Sono i new lab gospel and jazz e saranno a Lecce il 21 dicembre alle officine Cantelmo. Calcio. Ci sono anche le partite del Bari e del Lecce fra le gare sotto inchiesta nello scandalo delle scommesse calcistiche. Brescia-Bari dal 6 febbraio 2011 e Brescia-Lecce dal 27 febbraio 2011. Intanto continuano gli interrogatori ad Alessandro Zamperini e a Filippo Carobbio, due dei 17 arrestati nell'inchiesta della Procura di Cremona sulle partite truccate. I due calciatori dovranno difendersi dalle accuse di aver truccato diverse gare calcistiche. Ancora calcio. Anche da infortunato il giocatore barese del Milan, Antonio Cassano, non rinuncia alle sue specialità. L'attaccante milanista ha preso a spintoni e insulti una troupe di Telenord che stava realizzando un sondaggio credendo di essere oggetto delle riprese. Cassano è sceso dall'automobile e ha improvvisamente aggredito i due giornalisti. Meteo. Si preannuncia un Natale molto freddo. Nuvolosità variabili con residui e densamenti in tutta la Puglia. Calano le temperature massime e minime. sono previste gelate durante la notte. Viabilità. Si raccomanda prudenza sulle autostrade e sulle statali soprattutto nelle ore notturne. Per il momento è tutto e l'informazione torna tra meno di un'ora.